Il piano sanitario regionale che ridisegna la rete ospedaliera abruzzese accende lo scontro politico all'Aquila. L'opposizione di centrodestra urla lo scippo da parte della costa, visto che nel piano è previsto un solo ospedale di secondo livello, ovvero al top e con tutte le specialistiche, quello tra Pescare e Chieti. A discapito del nosocomi di L'Aquila e Teramo che rischiano il declassamento con l'inevitabile contrazione di ricoveri e di specialità di livello. Ma si registra anche il forte attrito, questa volta dentro il Partito Democratico, tra il sindaco Massimo Cialente e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Cialente è convinto infatti che non tutto è perduto e ripropone la necessità di istituire un ospedale di secondo livello federato anche tra L'Aquila e Teramo, annunciando un incontro con il ministro Beatrice Lorenzin, assieme al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Adesso noi a lungo abbiamo detto che Chiedi Pescara si possono unire come ospedali riuniti per la vicinanza e abbiamo detto che si può fare anche tra L'Aquila e Teramo, che Teramo e L'Aquila hanno ormai storicamente una neurochirurgia di valore, vedete che ormai Galzio dovunque va Pia Premi in tutto il mondo e la cardiochirurgia di Teramo che va rinforzata, però è una grande detenzione, si può fare questa cosa? Sì o no? Dicono ma il ministero non lo vuole fare e questo lo vediamo. Possiamo andare col sindaco di Teramo ad esempio a fare questo ragionamento al ministero, se il ministero dice no facciamo ragione, io ieri ho risentito Maurizio Brucchi e se si possa fare si fa una scelta di questo tipo, altrimenti si trova un'altra soluzione. Ma adesso con calma, ma ci si siede intorno al tavolo, se si pensa di lasciare fare ai tecnici queste scelte, è sbagliato, io lo dico perché come esponente politico anziano da rottamare, però di come si fa la politica, punto. Pietrucci però replica che i numeri sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e per fare un ospedale di secondo livello occorrono 75 mila accessi appropriati al pronto soccorso, l'Aquila ne ha poco più di 45 mila e si chiede Pietrucci con tono polemico, come mai ora Cialente cerca il confronto diretto con il ministro, mettendo in discussione mesi di lavoro della giunta regionale, condiviso tra gli altri con le organizzazioni sindacali, gli operatori, i comitati distretti, le sindaci, le associazioni, di cui peraltro il sindaco dell'Aquila è sempre stato a conoscenza. Il campus di Pizzoli avrà nuova vita, una vicenda questa che risale al 2010, quando quello che doveva essere un campus universitario con 262 posti letto per studenti, intitolato a Giulia Carnevale, una studentessa morta nel terremoto del 2009, fu sequestrato dopo un'indagine della forestale sulla scorta di un esposto presentato da Italia Nostra. Dopo il dissequestro si attende il pronunciamento della Corte d'Appello. Ma ciò che è certo è che la struttura non sarà più una casa per studenti, ma con ogni probabilità sarà una residenza per anziani, come ci conferma il sindaco di Pizzoli. Purtroppo ancora pende il giudizio davanti alla Corte d'Appello e quindi si è in attesa della sentenza definitiva che sbloccherebbe poi l'intervento. Nel frattempo, dopo il dissequestro, la ditta ha iniziato a fare un po' di pulizie, togliendo quei materiali abbandonati lì ormai da 5-6 anni. In più si sta valutando l'ipotesi di riconvertire la struttura. Quella è nata come residenza per gli studenti universitari. Adesso va visto se ci sono ancora le condizioni per portarle ancora oppure riconvertirla, non so, per esempio in una residenza per anziani che potrebbe essere compatibile con gli edifici che sono stati costruiti, con la destinazione e anche con, diciamo così, una sorta di idea dell'amministrazione comunale. Ed è certo pure che questa struttura non ospiterà immigrati. Con oltre 100 immigrati già presenti nel territorio comunale di Pizzoli, il sindaco ha detto siamo saturi, non possiamo ospitarne altre. Comunque Pizzoli in questo senso si è rivelato un ottimo esempio di integrazione. I 106 che sono stati assegnati con il bando del 2015, praticamente io credo che a Pizzoli non possano essere più ospitati altri profughi. La situazione adesso è tranquilla, nel senso che sia le associazioni che li gestiscono, sia l'amministrazione comunale, ci stiamo impegnando tutti affinché non avvengano problemi. Abbiamo stipulato delle convenzioni con ognuna di loro, alcuni di questi ragazzi che sono arrivati sono impegnati in lavori socialmente utili. A tutt'oggi possiamo dire che l'esperienza è positiva, però questo non significa che si possono continuare a mandare a Pizzoli altri profughi. Entro domani si dovrebbe conoscere il nome del nuovo tecnico dell'Aquila Calcio, in modo tale da poter allestire la rosa che il prossimo anno, salvo sorprese, affronterà il campionato di Serie D dopo l'amara retrocessione dalla Lega Pro. Il direttore sportivo Alessandro Battisti ha tre nomi sul tacquino, Morgia, Feola e Cappellacci. Se dovesse essere scelto Feola tornerebbe in rosso-blu come suo vice l'ex difensore dell'Aquila Calcio dei tempi d'oro Alessandro Cagnale. La piazza dimostra di gradire molto il nome di Massimo Morgia per la panchina aquilana, ma con lui vanno risolte alcune questioni ancora aperte con il Siena e all'Aquila il tempo stringe e peraltro si è già in ritardo. Nel frattempo c'è una squadra da rifondare completamente. Sono arrivate anche le ultime rescissioni di Stivaletta e Ceccarelli. L'obiettivo è portare all'Aquila un portiere di livello e due giocatori forti per ogni ruolo, secondo il presidente Corrado Chiodi, che continua a sperare in una riammissione dell'Aquila in Lega Pro, viste le difficoltà economiche di molte squadre che non potranno fare l'iscrizione. Intanto il supporter Stras dell'Aquila, l'associazione di fosi guidata da Marco Mancini, ha chiesto e ottenuto un confronto pubblico con la società del presidente Corrado Chiodi, che ci sarà domani pomeriggio.